Le abbiamo applaudite e ringraziate da tutti i balconi d'Europa. Le abbiamo riempite di elogi per gli sforzi eroici durante i mesi peggiori della pandemia. Tra i medici e gli infermieri c'erano loro, le donne, cariche forse di qualche responsabilità in più rispetto ai colleghi maschi. Così arriva il riconoscimento internazionale alle donne della Federazione Europea degli Infermieri, a cui è stato conferito questa settimana il premio Women of Europe Award. Al di là dell'altruismo, siamo felici di vedere riconosciuto il grande impegno delle infermiere nel fornire assistenza sanitaria a tutte le persone che avevano bisogno. Secondo le statistiche, prima della pandemia, gran parte del lavoro di assistenza sanitaria femminile non era retribuito. Per la giuria del premio, riconoscere il lavoro pagato e non pagato delle donne in questo settore è molto importante. Si tratta di donne che hanno lavorato in circostanze estremamente difficili, hanno dovuto affrontare sacrifici immensi e non hanno dubitato neanche per un secondo. Si sono messe a disposizione degli altri, della società, in questo periodo storico estremamente difficile. Tra le donne in prima linea c'era lei, Virle, un'infermiera belga che portava paste alle famiglie bisognose in sella alla sua bicicletta, consapevole che dall'altra parte dell'uscio c'erano persone più desiderose di parlare che di mangiare. Le nostre infermiere e assistenti sociali hanno fatto il possibile per essere lì ad ascoltare le famiglie. Hanno continuato a fare visite a domicilio, soprattutto nei quartieri più difficili di Bruxelles. Hanno cercato di proteggersi il più possibile e hanno continuato a lavorare anche nei momenti più duri della pandemia. E hanno ricoperto un ruolo molto importante per le puerpere, che dopo il parto non potevano essere visitate dai familiari. E i volti delle nostre infermiere sono stati gli unici che hanno potuto vedere durante l'isolamento. Ricevere le loro visite in quelle lunghe giornate ha fatto davvero la differenza. Una differenza fatta anche di coraggio che l'organizzazione European Movement International ha deciso di premiare.